come tutti sappiamo l'orgoglio nolano ha subito un incidente di percorso non dovuto da loro e non ha potuto portare il proprio giglio giù alle carceri e i ragazzi di la paranza hanno ironizzato su questa cosa portando poi il giorno dopo queste barre per fare la girata delle carceri nonostante sono di barra io amo questa paranza perché veramente rispecchia lo spirito della festa di nola e voi cosa ne pensate a voi commenti facciamo veramente un grande applauso alla paranza orgoglio nolano grazie a tutti